allora vediamo vediamo stiamo dicendo ai tuoi follower che siamo in diretta vediamo se instagram fa il solito simpatico ci blocca tutti o se qualcuno riesce ad essere avvisato eccoli qua i primi ciao ale ciao bianca ok siamo dentro anche col profilo di mari così riusciamo a leggere le vostre domande allora innanzitutto buonasera a tutti aspettiamo i primi ciao alessio ciao piero paolo grandi grandi allora condividete pure la live se pensate che possa aiutare qualcuno ok in modo tale che daremo delle informazioni che sicuramente potranno aiutare appunto e commentate fateci domande deve essere una live interattiva esatto ciao manu è arrivata manu ciao alice allora cosa trattiamo un tema che ci è stato richiesto parecchio in queste ultime settimane quindi abbiamo pensato di dire facciamo questa live staremo insieme non tantissimo una ventina di minuti insomma vogliamo darvi qualche spunto e soprattutto lasciare dello spazio alle vostre domande quindi c'è stato anche chiesto lasci la live poi registrata sul profilo sì adesso crash se riusciamo escono tutti banale no in teoria sì però sfruttate il fatto di essere in diretta per fare le domande interagite mi raccomando cosa che non potrà fare chi la vedrà poi in il replay in caso commentate qui sotto esatto mi raccomando se avete domande fatele a manetta così la rendiamo sempre bella specifica allora gestione dell'allenamento e dell'alimentazione in vacanza ok io vi darò qualche indicazione chiaramente più relativa all'allenamento e abbiamo qui la nostra nutrizionista ciao caro ok allora innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto che però va messo grande come una casa che si tratta di una vacanza ok quindi non è non andiamo subito in paranoia col fatto di dire oddio adesso andiamo a eliminare o rovinare tutto quello che abbiamo fatto ok quindi se avete seguito fino adesso un percorso adeguato di miglioramento di allenamento ciao caro e avete raggiunto dei risultati non sarà quella settimana quelle due settimane a farveli perdere e vi do due dati che vi potranno aiutare dal punto di vista scientifico ok innanzitutto su soggetti atleti allenati che hanno un'alta esperienza di allenamento è stato dimostrato che in una settimana in due settimane non c'è alcuna variazione di perdita di massa muscolare non si va incontro a catabolismo o altre cose di questo tipo mentre per atleti un po' meno esperti dopo le prime due settimane può cominciare un minimo di perdita di massa muscolare ma anche qui molto easy molto relax perché il muscolo ha una sua memoria ok la memoria muscolare quindi non appena noi andremo a riprendere con la nostra routine con i nostri allenamenti ecco che subito riotterremo i risultati che fra virgolette abbiamo perso quindi torniamo subito in pari io se posso aggiungere direi normalizziamo entrambe le scelte quindi non sentitevi sbagliati non sentitevi obbligati a dover per forza continuare allenamento e dieta ok è una scelta seguirli una scelta non seguirli fate quello che preferite vanno bene entrambe le scelte in caso non seguiate è una settimana come ha detto gabri non si perde nulla si può non è nulla di grave in caso invece se vogliate seguire il tutto meglio però state tranquilli nel frattempo arrivano anche i vip arrivano anche i vip il signor coppini fino a lì non leggo assolutamente va bene va bene grandi grandi non gridare mattiche sennò ti sento fino a qua comunque allora ragazzi arriviamo alle cose importanti adesso vi diamo i tip veri e propri nel frattempo vi ricordo se avete qualcuno in mente che a cui possa interessare questo tema condividete perché instagram da solo ormai non dà molta visibilità a queste live se invece condividete commentate eccetera ci aiuta grande matti si date maggiore visibilità live più gente la potrà vedere comunque vacanza ci serve per cosa abbiamo fatto un anno tosto magari di lavoro anche di allenamento qualsiasi cosa stress a manetta serve per recuperare le energie riposarsi staccare il cervello sappiate che quel recupero che voi andate a dare se è sano nelle vacanze è fondamentale anche per una questione di riassetto ormonale cioè se siamo troppo stressati andiamo anche senza andare troppo nel dettaglio a creare produzione di ormoni diciamo cortisolo alle stelle esatto e questo sappiate che i livelli troppo alti di cortisolo fra le altre cose contrastano vai vai contrastano un percorso di dimagrimento e di definizione esatto tendono ad aumentare comunque la percentuale di massa grassa mentre livelli più bassi e comunque un set ormonale più regolare dato anche dal recupero e dal riposo dal recupero proprio energetico e mentale ci aiuta a prevenire il catabolismo anche muscolare quindi mi raccomando ciao ele benvenuta buonasera a te mi raccomando ciao leonora io guardo là qui sotto beh date tanta importanza a questa cosa ora arriviamo a quelli che sono i tip perché magari qua qualcuno di voi dirà si beh queste cose le so già passiamo al solo già tra saperlo e metterlo in pratica c'è di mezzo un bel lavoro però andiamo a dei tip dei consigli pratici ok e intanto vi ricordo commentate qua se avete domande perché vogliamo renderla specifica per voi cosa è la cosa più importante nell'ottica di persone che vogliono dire ok io ho capito che devo ciao mara che devo rilassarmi devo riposare però voglio non perdere assolutamente i risultati che ho raggiunto fino adesso e comunque non mi pesa andare ad allenarmi non è una cosa che mi dà fastidio o mi stressa io mi auto impongo esatto e voglio comunque farlo quindi come posso regolarmi con l'allenamento con l'alimentazione in vacanza ok buonasera anche alla nostra daniela allora buonasera daniela abbiamo un focus principale che non è fare l'allenamento per bruciare le calorie questo toglietevelo dalla testa ok per bruciare le calorie abbiamo un metodo ok che è assolutamente diverso innanzitutto fatemi sapere qua sotto nei commenti magari se qualcuno di voi sa già qual è quella cosa che dobbiamo cercare su cosa dobbiamo porre il focus con l'allenamento con l'alimentazione vediamo se qualcuno già ci è arrivato come possiamo bruciare le calorie in vacanza diciamo se vogliamo concentrarci su quello rispondo io? ah con il movimento con il knit viene facile in vacanza muoversi abbiamo da fare le escursioni siamo in spiaggia nuotiamo tendiamo a muoverci molto di più di quanto magari facciamo nella nostra vita quotidiana quindi magari la parentesi di allenamento è ridotta è meno impattante ma nel resto della giornata il resto del movimento spesso è maggiore rispetto a quella che è la nostra quotidianità allora qua ci arrivano già deficit calorico dice ele ci stanno in un percorso di perdita di peso invece la nostra mano dice giustamente il knit ottimo bravissimo questo ci serve per bruciare le calorie il deficit calorico non è una cosa che andrei a ricercare in vacanza sinceramente anche perché appunto diventa una fonte di stress ci rovina un po' le vacanze ce lo dirà la nostra nutrizionista piuttosto appunto poi dipende non è che siamo qua a dirvi come dovete vivere la vostra vacanza però è molto più facile nel mio caso molte persone che conosco spesso tornano dalle vacanze che hanno perso peso ok quindi non pensate a dire devo andare a limitare i danni a mangiare poco o al deficit calorico o altro perché in questo modo vi stressate ancora di più e andiamo a rischiare il problemina di cui abbiamo parlato prima quindi già una vacanza un pochino più attiva che non sia semplicemente rosolare al sole magari in spiaggia ma può essere farsi una nuotata farsi le escursioni chi va in montagna cammina ah già ce ne sono qualsiasi cosa ok questo vi abituerà magari soprattutto se avete un lavoro sedentario arriverete durante la vacanza addirittura a muovervi di più molto di più ok quindi ok ok ele è tutto chiaro no no va bene ma rendiamola così interattiva che ci piace quindi con il knit siamo a posto se abbiamo l'obiettivo di bruciare calorie allenamento ed alimentazione devono essere ottimizzate per una questione principale che serve a non perdere i risultati ottenuti fino a qui che è? che è il ruolo di tamburi non perdere massa muscolare esatto non pensiamo a voler costruire massa muscolare in vacanza non è questo il momento possiamo focalizzarci sul non perderla e questo in questo caso sia l'allenamento che l'alimentazione ci possono aiutare esatto allora parlando nel pratico a livello appunto pratico per quanto riguarda l'allenamento distinguiamo un attimino le due fasi una in cui veramente sarà il 20% delle persone cioè comunque una minoranza che ha accesso a una palestra o anche chi dovesse avere accesso a una palestra già vi do una indicazione dobbiamo recuperare sempre ok quindi volete comunque andare ad allenarvi avete la palestra nell'hotel ce l'avete vicino a casa volete andare volete andare quelle due tre quattro volte a settimana già diventa tanto però due tre volte a settimana il mio consiglio è comunque dare soprattutto importanza al recupero e quando fate queste sessioni di tenerle magari da una mezz'oretta 40 minuti altrimenti veramente non staccate e il metodo che vi consiglio di tenere per chi si allena magari in palestra che ha accesso a una palestra è allenare magari a sessione quei due tre movimenti generalmente multiarticolari cosa vuol dire magari fondamentali ciao Feli grande piacere di averti qui che possono essere lo stacco la panca lo squat e tutte le varianti e fare veramente un paio di set per ogni movimento però portarle vicino al cedimento quindi rendere veramente quel set tosto un paio di set a movimento a un cedimento reale ok in tal modo non si perde tempo e il muscolo è stimolato a mantenere appunto il suo tono e siamo a posto però appunto questo ci permette di non perdere troppo tempo in allenamento non stessarci troppo però non tutti abbiamo accesso alla palestra o magari avremo anche accesso ma non ci va preferiamo andare in spiaggia a passarci la giornata e quindi le altre persone quelle che corrispondono alla stragrande maggioranza di chi vuole comunque mantenersi in allenamento e qualcuno di voi già qua presente in live sta già beneficiando di una sorta di programmazione di questo tipo ciao Marzia è quella di tenere anche qua allenamenti brevi sempre una 20-30 minuti poi dipende da anche il vostro gusto ok però l'obiettivo se è quello di mantenere la massa muscolare anche a corpo libero si può fare e soprattutto con l'aiuto di un elastico per esempio che è qualcosa di molto comodo che possiamo portarci dietro senza che ci pesi piccolo in valigia non ruba spazio esatto portare tutti i vestiti che vogliamo esatto potete verterlo anche come collana non è un problema fate tendenza in vacanza sapete che roba anzi lanciamo questa roba della moda con collana elastico in vacanza ciao Simo dicevo quindi allenamenti con l'elastico come li possiamo strutturare l'obiettivo per mantenere la massa muscolare è comunque creare uno stimolo efficiente anche a corpo libero che ci porti un pochino oltre a quello che può essere solo un movimento fino a se stesso cosa vuol dire arrivare magari vicino al cedimento anche qui anche a corpo libero se siamo abbastanza forti a corpo libero grande Simo l'elastico interverrà in questo caso ad aumentare il profilo di resistenza faccio un esempio i push up sono forti devo fare 50 piegamenti sulle braccia prima di arrivare a sentire fatica allora ok aumentiamo il tempo sotto tensione facciamo ripetizioni lente controllate usiamo l'elastico appoggiato dietro per spingere idem negli squat squat a corpo libero una volta che uno è abituato a lavorare con i carichi ne fa 200 prima di sentire un po' di bruciore quindi cosa facciamo lavoriamo lenti lavoriamo con le pause in buca aumentiamo il tempo sotto tensione aumentiamo il profilo di resistenza per esempio appoggiando l'elastico facendolo passare sulle spalle e sotto i piedi cioè creiamo qualcosa che ci stimoli e vada a riprodurre un pochino a sostituire l'idea del carico del peso questi esercizi anche qui non c'è bisogno che siano fatti per forza in modalità HIIT perché pensiamo che ci aiutino a bruciare di più grasso ok non è così però un'idea HIIT ci può aiutare a essere più veloci ok abbiamo quei 20 minuti vogliamo impegnare 20-30 minuti al massimo siamo in spiaggia ci mettiamo lì ok una bella corsetta 5 minuti siamo caldi prendiamo l'elastico prendiamo il lavoro a corpo libero vi consiglio di lavorare vicini a cedimento anche in questi esercizi perché vi rompo le scatole con questa questione perché se l'obiettivo focus è quello di mantenere la massa muscolare dobbiamo dare lo stimolo corretto al muscolo per continuare a crescere come vi ho detto ci sono strategie per farlo a corpo libero e anche con elastico eventualmente se pensiamo solo di dover bruciare quindi saltelli a destra manca corsette cose così ci aiuterà certamente ci fa sentire essi ci piace siamo contenti di averlo fatto però non ci aiuta a stimolare il muscolo a crescere ok quindi dal punto di vista dell'allenamento palestra o corpo libero che sia cercate sempre il massimo stimolo per l'ipertrofia perché è quello che vi manterrà sodi duri a livello muscolare ok dal punto di vista dell'alimentazione come la manteniamo la massa in vacanza allora abbiamo un macronutriente che ci aiuta più degli altri che sono le proteine che sono forse anche quelle un po' più difficili da gestire durante una vacanza durante gli spuntini ad esempio siamo in spiaggia comunque siamo in giro quindi ci viene difficile mangiare una componente proteica quindi stiamo attenti ai passi principali ad esempio siamo in hotel a fare colazione possiamo scegliere uno yogurt greco piuttosto che uno yogurt magro non c'è lo yogurt possiamo scegliere delle uova se c'è un affettato di buona qualità un affettato io non leggo Pierpausa dal punto di vista dell'alimentazione è meglio scegliere piatti proteici esatto bravo le proteine sicuramente ci aiutano e poi se appunto le perdiamo già negli spuntini cerchiamo di inserirle sempre a pranzo e cena quindi sia che siamo al ristorante sia che sia un self service sia che ci portiamo noi cose in spiaggia inseriamo sempre una fonte proteica facciamo una spesa ma non abbiamo una cucina benissimo toni scatola insaccati ci sarà una frequenza magari maggiore appunto di questi prodotti confezionati va bene è una settimana di vacanza non succede nulla la sera andiamo al ristorante scegliamo un bel secondo poi possiamo accompagnarlo con un primo se ci va però comunque inseriamo sempre una fonte proteica almeno a colazione pranzo e cena se riusciamo se poi a merenda ci va anche uno yogurt perché ce lo compriamo al baretto poi lo mangiamo in spiaggia meglio ancora comunque focus sulle proteine questo è il consiglio generale che vi posso dare per cercare di tutelare il più possibile la vostra massa muscolare un altro consiglio che vi posso dare per cercare di non grande Edo rovinare troppo il nostro percorso di dieta è quello di cercare di tenerci la sera la coccola il dolcetto il piatto tipico sia perché almeno a me dimmi se anche per te così e se per voi così sapere di avere la sera quella coccola mi aiuta molto piuttosto che averla a mezzogiorno a me piace di più averla la sera e poi anche da un punto di vista ormonale perché nel momento in cui andiamo a mangiare magari un dolce qualcosa di particolarmente ricco avremo una risposta insulinica forte quindi il crollo poi della glicemia e questo crollo della glicemia è quello che poi ci porta ad avere più fame e quindi a ricercare ancora qualche schifezza e se riusciamo a limitare questo momento di ricerca schifezze alla sera che poi magari andiamo a dormire sicuramente più facile che dover affrontare questo momento più difficile magari nel corso della giornata in cui c'è più possibilità di andare a stuzzicare e ricercare varie cose allora una roba al volo aspetta aspetta che se no me le perdo allora bravi ragazzi fate domande che interagiamo un po' se no Instagram qua ci copre c'è una copertura terribile di questo Instagram dannato allora ragazzi un consiglio al volo tre volte a settimana taekwondo usti mi ha mirati penso uno di rest anche due in linea di massima quante calorie dovrei assumere al giorno vai vai risponderti così su due su due piedi non si può dipendere da tanti fattori e per questo ci sono io ci sono io come nutrizionista risponderti così al volo non ti direi un numero sbagliato e non non mi sembra il caso allora intanto mi sono allenato con te su bodyfit sei veramente in gamma altriché modus molto simpatico empatico è vero grande Edo io ti aspetto sempre nelle prossime live e abbiamo qua Pise ragazzi se dovete tagliare i capelli abbiamo qua un grande ormai è famosissimo basta che lo cerchiate grande bomber ti voglio come coach spesso non si possono gestire i condimenti mangiando al ristorante come fare allora vado posso rispondere ciao Franci la parte oh mio cugino ciao Franci allora la parte dei condimenti in effetti è un altro tasto un po' dolente quello che vi posso consigliare è cercare di preferire determinati metodi di cottura piuttosto che altri quindi invece di scegliere le cose fritte le cose ripassate che ripassate significa moltissimo olio scegliamo cosa alla griglia siamo al mare del pesce grigliato del pesce crudo carne cruda cerchiamo le cose meno lavorate possibile meno cucinate possibile perché è ovvio che il ristorante non pensa alla nostra linea pensa più farci un piatto buono che ci piace così torniamo più volentieri per le verdure un banale consiglio quello di chiedere di avere delle verdure ad esempio grigliate un'insalata scondite e poi ci portano l'olio e ce lo condiamo noi a parte quindi un occhio al condimento se possiamo averlo noi a parte e cotture che non le richiedano troppo grande pise grande prova costume vociata sei ancora in tempo io ti aspetto mandami un messaggio e ci spacchiamo per bene vedrai cosa cosa riuscirei ad ottenere ragazzi comunque per chi fosse entrato dopo noi vi ricordiamo che la premessa grande è comunque che siamo in vacanza quindi easy relax perché altrimenti più state qua a stressarvi la testa più avete uno sballo anche nella produzione ormonale più ormoni che vanno ad aumentarvi senza entrare nel dettaglio la percentuale di massa grassa e e rischiate di perdere massa muscolare non vogliamo che arrivi il messaggio del in vacanza dovete fare dieta e allenarvi per forza ok se volete vi diamo qualche consiglio però easy take it easy abbiamo qua un altro atleta super Roby Gotta che ci dice ricettina affiziosa con la friggitrice ad aria allora ti dico la verità Roby io in realtà sto aspettando la ragazza che prepari qualcosa di nuovo perché io sono molto metodico ho tutti i miei ritmi quindi di solito prendo butto una volta che ho fatto quelle due robe lei è molto più fantasiosa e posso dire il salmone che abbiamo fatto esatto dai vai no no fallo tu l'hai fatta tu vai no abbiamo fatto il salmone abbiamo preso il trance di salmone surgelato con miele senape e qualche spezia buonissimo perché esce un po' agro dolce con la crosticina della frigidrice meraviglioso bello esatto ed era il salmone surgelato molto easy super easy abbiamo tirato fuori un po' dal freezer un pochino prima sopra una salsina fatta da miele e senape ragazzi spezia cioè era una roba allucinante buonissima veramente se vi piace pensavo di portarmi il computer ad allenarmi allora mi rilasso per una settimana e ritorno e ricomincio ad allenarmi sì Giorgio ci sta ci sta allora dipende da come tu vivi quella questione di allenamento cioè se tu porti il computer solo per poterti allenare non lo so cioè se già comunque ti devi portare il computer ti piace l'idea di allenarti fare qualcosa allora sì sfruttalo ma se la vivi come dire oddio adesso perdo tutto no non ci siamo poi comunque anche chi magari io parlo per chi segue magari le mie programmazioni chi si allena in altro modo di solito è tutto molto facile anche da gestire da da smartphone che sia la app che sia qualcos'altro si riesce a fare anche solo il timer ok se avete idea di cosa dovete fare timer del telefono e basta e avanza e questo è ciao ragazzi io direi spazio qualche minuto alle domande vi avevamo promesso che vi avremmo tenuto poco qualche consiglio quindi coi tempi bene o male ci siamo ma se avete domande questo è il momento per sfruttare al massimo fate ok grazie la proveremo fateci sapere poi se vi piace esatto esatto noi guardiamo giù perché c'è l'altro telefono che da qui io ci vedo ma io assolutamente qui abbiamo qualcuno un po' sguercio quindi fa più fatica la caro grazie a volte scondite per i ristoranti sono comunque con un goccio d'olio sì e che goccio soprattutto è vero ci sta perché comunque il ristorante è vero e mira a fare una cosa buona punta sul gusto quindi cibi palatabili ovviamente esatto resi tali da un buon apporto di grassi quindi ovvio anche se idri però ripeto cioè relax ok anche piuttosto rinunciamo alla frutta secca che mangiamo a colazione la frutta secca che mangiamo nello spuntino tagliamo quelle cose tagliabili e i grassi che abbiamo perso nel corso della giornata li recuperiamo poi alla cena al ristorante quindi senza impazzire si tratta solo di aggiustare di equilibrare un po' la giornata siete stati molto chiari grazie allora visto che io ho già in mente una persona che mi doveva fare una domanda fa il timido eh però me l'ha fatta più volte non lo dico fa il timido non vuole uscire lo scoperto una domanda al volo mi è stata fatta relativa al digiuno intermittente in vacanza allora molto 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 brevemente io al digiuno noi il digiuno intermittente io personalmente lo seguo da sette anni ma per mille altri motivi non perché debba perdere peso per questioni legate al benessere può essere uno strumento legato alla perdita di peso sì però se l'idea è vado in vacanza voglio comunque parlavamo all'inizio bruciare di più è digiuno intermittente faccio la fame tutto il giorno non ha senso quando ha senso fare il digiuno intermittente per esempio voluto o non voluto che poi alla fine controlli le ore viene fuori bene o male quello quando magari è una vacanza abbastanza itinerante ok vi alzate la mattina dovete fare mille camminate di qua e di là o fate una colazione bella tosta e poi praticamente tirate a tardo pomeriggio così che neanche ve ne accorgete allora bella colazione sostanziosa e si va si tira si cammina anche perché se no diventa anche un pensiero dire cavolo sono in giro però mi devo fermare mangiare così allora può avere senso idem magari con questo caldo soprattutto chi va mancanza al mare adesso magari può non avere tanta fame se non voglia di bere qualcosa o qualcosa di fresco allora può avere senso anche lì stare un po' più leggeri nell'arco della giornata tenersi molto idratati anche perché ascoltare il vostro corpo se non avete fame non forzatevi ok proprio perché in vacanza magari non state seguendo un piano siete molto in relax quindi ascoltate imparate sfruttate quei giorni per imparare a conoscere il vostro corpo e poi sfruttate il consiglio che ha dato Mari poco fa sul fatto di arrivare alla sera che magari siete stanchi è stata una bella giornata intensa così avete la voglia di coccolarvi di uscire a cena e concedete quella cosa lì quella cosa extra quindi diventa un digiuno intermittente non voluto non cercato ma praticamente esatto non cercate lo stratagemma dell'ultimo minuto per cambiare qualcosa in quei giorni di vacanza ok quindi ricordatevi ripartite da quello che abbiamo detto all'inizio quindi non ci ripetiamo altre volte un attimo una cosa di chiusura se avete domande fatele insalatona sono sempre una buona opzione per il pranzo sì assolutamente magari prendi un insalatona che abbia dentro del petto di pollo grigliato quindi con pochi grassi ci puoi abbinare eventualmente due fette di pane quindi un carboidrato non lavorato non condito non ingrassato in nessun modo piatto bilanciato perfetto allora questa è tua della nostra Simo Simo bella carica che domani mattina alle 7 si parte in quarta mi raccomando vai leggi leggi allora io andrò io andrò in ferie ad agosto in Puglia beata te e so già che abbonderanno i fichi di cui sono molto golosa e i gelati come regolarsi con le quantità dosi allora i fichi sono un frutto quindi va benissimo qualche fico due o tre fichi nella raccola della giornata mangiali serenamente che ti fanno solo bene portamene un po' che mi piacciono esatto veramente per quanto riguarda i gelati magari non tutti i giorni ma ogni tanto la sera un gelato con ceditro senza troppe paranoie piuttosto voi stare in linea la sera o a pranzo magari riduce un po' i carboidrati e poi recuperi con il gelato quindi senza troppe paranoie cercate di bilanciare tutta la giornata sapete che la sera avete il gelato sapete che la sera avete la super cena ok il resto della giornata state un po' più leggeri cercando le proteine focalizzatevi sulle proteine riducendo i carboidrati e specialmente i grassi che in vacanza sono quelli un po' più facili da trovare esatto c'è altro qui in Puglia io sono pugliese e vi dico che è impossibile mangiare solo due o tre fichi eh lo so allora un trucco un trucco che allora ripeto siamo in vacanza quindi easy però un bel trucco che si può fare è che a me aiuta quando sono quei fichi io quei datteri per esempio tra poco vado a letto domani carica mille grande tra poco vado a letto anch'io se no mi sveglia neanche il gallo no a parte di scherzi allora un consiglio che vi do quando sapete che avete quel trigger food si chiama magari quel cibo a cui proprio non riuscite a resistere non sapete fermarvi il classico uno tira l'altro è dire voglio mangiarmi tre fichi va bene non state davanti alla cesta di fichi o al fico a tirarli giù e mangiarli prendete tre fichi in un momento in cui non li dovete mangiare e ve li portate via ok sapete che sarà uno snack durante una passeggiata o ve lo portate in spiaggia così tac tre fichi quando avete voglia ve lo mangiate e non ne avete gli altri ok non ce l'avete sotto mano poi se vi va alla fine della giornata mangiare un altro fatelo perché ripeto siete in vacanza allora la super soup no ci ha chiesto come comportarsi con gli allenamenti trovi tutto già super soup tra l'altro letto da dio no io ho letto al volo scusate beh comunque l'abbiamo già letto lo trovi lo trovi prima e poi cosa ho letto se sei in vacanza in pensione completa è molto dura cucirsi la bocca posso dare un altro consiglio al volo in questo caso quindi se pensione completa significa che sia al buffet sia a pranzo che a cena penso di sì ok consiglio generale cerca di bilanciare i passi quindi a pranzo scegli un primo piatto sempre con una parte di proteine però fondamentalmente sempre un bel piattone di pasta con una parte proteica magari ridotta e a cena un secondo o viceversa quindi bilancia in questo senso ok ho provato il follato con i datteri è fantastico eh Pierpaolo se lo dice a me io perché è molto fan numero uno dei datteri io veramente abbiamo qui Carolina che una volta mi ha portato i datteri da Israele però se siete di Castano Primo al mercato fanno dei grandi dati il piatto di Castano Primo fa dei datteri che sono una meraviglia e rimanendo in tema serietà ragazzi noi adesso vi salutiamo se avete qualche altra domanda fatela adesso perché magari arriva in ritardo non facciamo il tempo a leggerla l'ultima dico intanto che vi do questi secondi extra due cose al volo allora per la nostra assunta che è arrivata dopo chiedeva degli allenamenti dopo io questa live la lascio magari non si era caricata entro stasera domani comunque la lascio sul mio feed quindi sulla mia home pagina insomma come si chiama la trovate lì quindi andate a rivederla abbiamo parlato dell'allenamento che deve essere svolto magari più a ricercare l'intensità perché l'obiettivo del tuo allenamento è quello di mantenere la massa muscolare non di bruciare le calorie ok quindi abbiamo dato un paio di tip su come mantenerla su come arrivare fra virgolette a cedimento anche quando ci alleniamo a corpo libero e abbiamo consigliato l'aiuto di un elastico che bene o male abbiamo tutti o comunque con veramente pochissimi euro si trova ovunque su amazon la decaton dove volete e abbiamo lanciato la sfida di tenerselo come collana troviamo la foto di voi in spiaggia con la collana elastico questo estate ci taggate in vacanza montagna ovunque voi siate foto con collana di elastico veramente veramente questa ce la segniamo ripubblichiamo un movimento di collanari con l'elastico i collanari e allora questa live è nata dal fatto che tantissimi avete chiesto questo quindi volevamo da una parte tranquillizzarvi soprattutto nella prima parte della live è tutto regolare è tutto tranquillo ci sono studi che lo dimostrano ok e non vi dovete preoccupare dall'altra parte per chi volesse comunque fare qualcosa abbiamo voluto darvi qualche spunto detto ciò se vi può interessare scriveteci comunque nei prossimi giorni magari mettiamo una storiella sì un post magari un questionario fra virgolette storia se vi può interessare magari possiamo creare un breve piano di allenamento con un pdf su come gestire magari la parte di alimentazione se vi può interessare possiamo creare un prodotto di questo tipo ok vedi per esempio qualcuno già sta testando questi programmi come la nostra Marzia che dice io con il mio programma estivo mi trovo benissimo quindi perfetto super Marzia nei prossimi giorni anzi domani magari vi lasciamo una storiella così se vi può interessare lo mettiamo giù c'è ancora tempo prima di partire in vacanza per molti di noi quindi farete in tempo ad avere la vostra breve programmazione magari la metto direttamente sulla mia app così ve la potete gustare con anche timer e video esecuzioni tutto corpo libero elastico facciamo magari una cosa diversa per uomo e donna perché generalmente gli obiettivi sono diversi e un bel vadenecum pdf come gestire l'alimentazione a 360 gradi in vacanza interessatissima dice la nostra Ale perfetto perfetto allora promesso ci adoperiamo ci adoperiamo l'alizzi art grande artista andate a vedervi la sua pagina lalizzi.art e se vi piace tutto quello che è un lavoro artigianale di non solo articoli diciamo bijoux come si dice collane braccialetti così ma anche quadri facciamo fare una con un elastico per rimanere il tema esatto finito tra l'altro rifaccio le lezioni grande marzia grazie mille ragazzi siete il top grazie siete il top voi ragazzi siamo andati un filo oltre speriamo comunque di avervi dato qualche consiglio utile adesso breve prelanna scherzo si va a leggere e si va a dormire e domani si parte alla grande 100% prendetevi del tempo per voi anche domani ogni giorno ragazzi ciao un abbraccio un bacione a tutti ciao 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 ciao